Oggi è un giorno importante. Oggi celebriamo le persone che non sono avuto un'idea, ma hanno anche agito per concretizzarla. Le persone che hanno assunto un rischio e si sono messaggiati, sapendo che il successo non era garantito. Le persone che in un anno hanno seguito la strada più facile, ma hanno scelto la mia strada, malgrado le difficoltà, motivati a ritagliarsi il proprio spazio in questo mondo. Oggi non celebriamo le stesse, ma voi, un milione di persone che hanno raggiunto l'obiettivo. Un milione di persone che hanno avuto il coraggio di tradurre nelle realtà nel mondo, credendo nelle potenzialità del mercato più ampio e più concorrenziali. Oggi celebriamo voi. Tutti voi, i componenti di questo milione. Eccoci qui. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno, ciao. Buongiorno a tutti. Io mi chiamo Paolo Picazio. Oggi in realtà sono Head of Italy di Shopify da due mesi. Sono entrato in azienda appunto due mesi e oggi fortunatamente non sono da solo in questo live, ma sono accompagnato da due ospiti d'eccezione, due grandi amici di Shopify, non solo Italia, ma mondo, che sono Emilio Lodigiani, founder e CEO di Tunka, li vedete anche qui adesso in video, e Jacopo Pecchi invece di Sintra Digital. Buongiorno, ciao a tutti. Oggi parleremo di Shopify, io farò una breve introduzione e dopo lascerò la parola a Emilio e Jacopo, che sono molto più esperti e molto più ferrati di me sulla piattaforma. Partiamo dalla missione di Shopify, che molti di voi probabilmente conoscono, che è quello di rendere il commercio migliore per tutti quanti. Il nostro obiettivo specifico, il mio obiettivo specifico, è quello di renderlo migliore per tutti quanti in Italia. Ci sono tantissime aziende che utilizzano Shopify in Italia e nel mondo, qui vedete solamente alcuni loghi, in basso potete vedere anche alcuni magari brand che sono familiari al mercato italiano, come Velasca, come Blowhammer, quindi c'è un po' di tutto, sia dalla piccola azienda, ma anche dalla più grande. E un altro esempio, insomma, di brand, insomma, di azienda che è con Shopify, e quella di Ammu, che però soprattutto in questo periodo, insomma, dove siamo tutti quanti un po' costetti a casa, hanno dovuto investire di più nell'online. E qui vedete un po' questa citazione, la parte di Marco, che è responsabile Marco di Ammu, di come appunto hanno investito di più nelle consegne a domicilio, investendo tanto su Shopify, implementando una semplicissima app per permettere, insomma, di aumentare le consegne a domicilio. Ovviamente il tutto poi è condito da campagna advertising su Facebook e Instagram, perché è importante per tutti quanti sapere che una volta creato un e-commerce, bisogna anche saperlo spingere nel modo più appropriato. Ole. Mi do qualche numero di Shopify. Nel mondo ad oggi, come dicevo, ci sono più di un milione di negozi che utilizzano la nostra piattaforma. E' andato anche molto interessante che nel mondo sempre ci sono ad oggi più di circa 300 milioni di persone che hanno acquistato su un e-commerce che sfrutta la tecnologia di Shopify. Tutto questo in più di 175 paesi. E' un altro dato molto interessante che evidenzia anche la solidità, la stabilità della piattaforma, e sono questi 2,9 miliardi di dollari che sono stati fatturati di tutti i negozi Shopify in un weekend, quello del Black Friday dell'anno scorso, quindi in merdi, sabato, domenica, lunedì, incluso quindi il sabato e mandi, quasi 3 miliardi di dollari sono passati sulla piattaforma Shopify, sui negozi Shopify. Numeri italiani, anche questa credo che sia la prima volta che li comunichiamo ufficialmente, ci sono circa 2 milioni di persone che hanno acquistato su un negozio Shopify, sia in Italia che nel mondo, e qui mi piace anche evidenziare il fatto della crescita, che stiamo avendo in Italia, nello specifico. Rispetto al 2018, per esempio, abbiamo avuto 81% di imprese in più che hanno deciso di utilizzare Shopify, e anche il fatturato generato da questi negozi nel 2019 è stato più alto rispetto al 2018, di circa il 58%. Quindi, di nuovo, grandissima sostanza, grandissima crescita per quanto riguarda Shopify nel mercato italiano. Perché tutte queste aziende hanno scelto Shopify? Beh, diciamo che rispetto alle altre piattaforme, Shopify si distingue per essere una piattaforma SaaS, quindi software as a service, quindi non c'è bisogno di scaricare, impostare server, eccetera, eccetera, ma tutto viene fatto con una semplicità impressionante. Io dico, mi piace dire che è un po' creare un negozio su Shopify è un po' più difficile che aprire un account su Instagram o su Facebook. Ed è, di fatti, di fatti è così. In circa mezz'ora, chiunque, forse anche mia madre, è capace di creare un negozio su Shopify. Quindi è semplicissimo da usare e, come diceva anche in precedenza, non si è affatta nessuna manutenzione perché non bisogna essere un programmatore, non bisogna essere un sistemista. Chiunque oggi, con un po' di click di qua e di là, è in grado di aprire un negozio su Shopify. Vi farò vedere velocemente quattro piccoli passi che vanno a indicare un po' questa semplicità. Quindi aprire il negozio, iniziare a vendere online, promuovere l'attività e poi gestire tutto quanto attraverso l'interfaccia di Shopify. Poi chiaramente Emilio e anche Jacopo andranno un po' più nel dettaglio su queste parti. Il primo step, ovviamente, è aprire il suo negozio, quindi www.shopify.com, si va nella sezione italiana, si apre un account e da lì, ripeto, con semplici pochi step, si trova un nome commerciale se non ce l'avete già, si può creare anche un brand se non lo avete già, si può acquistare un dominio se non ce l'avete, altrimenti potete trasferire il vostro, il tutto con degli strumenti gratuiti. Ovviamente poi il dominio, il dominio quello lì è a pagamento, però insomma, attraverso la piattaforma potete vedere come è semplice tutta questa fase. Si vende online, ma non solo online. Shopify nasce come piattaforma di e-commerce, quindi potete vendere online, ma nel corso degli anni, più di dieci anni che questa piattaforma è stata sviluppata, lanciata la prima volta nel 2006, abbiamo un po' alla volta aggiunto, abbiamo, i miei colleghi in realtà hanno, aggiunto diversi canali, quindi è stata abilitata la possibilità di vendere in un punto fisico con Shopify Post, sono state fatte diverse integrazioni con i principali social media e anche con i principali marketplace. Quindi Shopify come piattaforma centrale in tutto questo ecosistema e poi, insomma, di lì a poco agganciare uno alla volta tutti i diversi canali su cui si vuole vendere. Terzo passo, quello della promozione, come dicevo prima, non sarebbe niente avere un bel negozio se poi nessuno lo visita e per questo motivo negli ultimi anni sono stati fatti fortissimi investimenti nell'interazione con le principali piattaforme per, insomma, di advertising, nello specifico Facebook, Instagram, Google Shopping, ma anche interazioni con eBay ed Amazon Marketplace, sono state un punto centrale della strategia di Shopify, che vado sì che dobbiamo semplificare la creazione di un negozio, ma l'obiettivo dell'azienda è anche quello poi di semplificare la vendita che avviene sui vostri store. Nello specifico le integrazioni di Facebook e Instagram mi sento abbastanza confident nel fatto che siano state fatte bene perché precedentemente alla mia esperienza, a questa esperienza di Shopify lavoravo in Facebook e l'obiettivo del mio team era proprio lavorare su queste integrazioni. Quindi lì ci metto la mano sul fuoco. Sono integrazioni perfettamente funzionanti e che un po' alla volta non appena anche questi prodotti si evolveranno vedrete anche riflessi sulla piattaforma di Shopify. Faccio un esempio su tutti gli Instagram Shopping e Checkout nello specifico gli Instagram Checkout che al momento è disponibili solo negli Stati Uniti non appena sarà disponibile anche in Italia in Shopify la troverete automaticamente integrata. Ultimo step è quello della gestione. Un'altra creato un bel negozio bisogna anche essere in grado di gestire tutto quello che succede. Anche qui Shopify è una struttura molto robusta per gestire tutto quello che è il tema di ordini ed evasioni gestire quindi il database clienti ed avere quindi un database un inventario centralizzato dove in tempo reale si può controllare la disponibilità che ci sono nei diversi canali la disponibilità che c'è in magazzino evadere degli ordini in maniera molto semplice collegarsi con diverse app che permettono appunto la possibilità di spedire poi questi prodotti è ovviamente la gestione dei pagamenti pagamenti dove principalmente può essere utilizzato Shopify Payments che quindi è questa soluzione di Shopify attraverso cui si possono ricevere pagamenti con le principali carte di credito e di debito quindi Visa Mastercard American Express eccetera eccetera e anche poi chiaramente si possono aggiungere dei gateway di pagamento diversi si può integrare Paypal ad esempio un'altra cosa che mi preme sottolineare prima di passare la palla ad Emilio è anche l'impegno che Shopify ha preso ovviamente in questo contesto particolare che stiamo vivendo tutti quanti nel mondo e quindi mi riferisco all'emergenza del coronavirus una delle cose che abbiamo fatto è stata quella di estendere il periodo di prova dai soliti 14 giorni a 90 giorni quindi oggi chi si iscrive a Shopify ha 90 giorni di tempo per crearsi un sito testare la piattaforma limare tutti i dettagli ed essere pronto a vendere fin da subito un'altra caratteristica un'altra funzionalità che abbiamo abilitato su tutti i piani cosa che invece era disponibile solamente sul piano quello da 299 dollari era la possibilità di utilizzare i buoni regali quindi adesso soprattutto quando i merchant i negozianti sono più in difficoltà utilizzare i buoni regali può essere un ottimo strumento per non perdere delle vendite in questo periodo abbiamo investito anche molto sull'educazione insomma questo webinar è nella prova ci sono questo we tap scusatemi nella prova ma così è insomma vedrete spessissimo settimana prossima ce ne sono altri stiamo organizzando meet up virtuali webinar proprio per supportare la community oggi su questo indirizzo che trovate adesso help.shopify.com slash t slash webinars trovate le webinar creati dal nostro team di guru che vanno online almeno tre volte a settimana e poi nella pagina meetups.shopify.com trovate questo webinar questo meetup ma anche tutti gli altri sia in Italia che nel mondo che appunto stiamo organizzando in questo periodo quindi anche se se non parlate solo italiano ma parlate anche inglese potete semplicemente collegarvi a questo indirizzo e seguire magari quello che i miei colleghi stanno facendo in altri paesi detto questo io lascio la parola ad Emilio vi ringrazio per essere qui e buon meet up a tutti quanti va bene grazie mille grazie mille Paolo grazie grazie e dunque io volevo dirvi innanzitutto innanzitutto aspettate posso far così oh guarda faccio così un attimo per introdurre la cosa allora innanzitutto grazie a tutti i partecipanti vedo che ci sono molti partecipanti che sono collegati sia da youtube che da facebook in questo momento siamo quasi 200 collegati contemporaneamente e questo è un piacere è un piacere da un lato perché arrivare improvvisamente in una stanza in 200 nel mondo fisico è più difficile quindi ecco un vantaggio del virtuale che ci permette molta interazione un sacco di domande anche stanno arrivando a una rispondo al volo i webinar rimangono registrati sì quindi quello che diciamo potrete rivederlo e anche le presentazioni che stiamo presentando le manderemo le manderemo però a chi si registra all'indirizzo dello Shopify virtual meetup e che vi mettiamo poi in descrizione se non siete già registrati insomma la pagina della registrazione ufficiale del virtual meetup va bene allora io parlerò brevemente di un argomento che è i quattro passi diciamo le quattro fasi per aprire un e-commerce è un argomento che ho già trattato in passato ma lo rivisitiamo oggi per questa situazione per questo momento relativo al covid successivamente siamo a disposizione per le domande quindi chi vuole fare domande può cominciare a mettere nei commenti e poi Paolo Jacopo e io potremo rispondere allora vado a presentare il mio schermo ecco qua benissimo eccoci quindi la questione è cioè il tema è aprire un negozio online allora quello che voglio intanto mi presento ok per chi non mi conosce io mi chiamo Emilio Lodigiani sono ingegnere informatico mi trovate su emiglielodigiani.it e insomma c'è un percorso fatto relativo al mondo e-commerce che poi potete vedere o un podcast su strategiae-commerce.it Tunca è l'agenzia che ho fondato strategiae-commerce è il brand che si occupa di comunicazione e informazione quindi c'è un corso ad esempio che abbiamo fatto un corso che è offerto gratuitamente per chi oggi proprio per l'iniziativa covid del ministero della salute abbiamo fatto della salute e dello sviluppo tecnologico se non erro si chiama per cui si può accedere a questo corso gratuitamente per sei mesi se ti iscrivi entro il 30 aprile anche lì metteremo i vari link in descrizione ora iniziamo subito dobbiamo aprire un negozio online ok e questo framework che ora vi illustro non è soltanto per aprire un negozio ma è anche per migliorare un negozio esistente ed è anche per fare una semplice promozione come quella del black friday ad esempio quindi sempre io devo ragionare con questo framework a quattro fasi come si fa fase numero uno pianifico ora lo vediamo per aprire un negozio e poi vediamo come si estende allora pianifico ad esempio per aprire un negozio la prima cosa che devo fare è chiedermi chi è il cliente a cui sto vendendo e in funzione di quello qual è il valore che il mio prodotto può dare quindi sostanzialmente il prodotto che in molti casi da una persona che inizia viene messo come prima cosa cioè io parto dal prodotto se ho già un prodotto perché sono già un produttore invece no dovrei partire dal cliente e in base al cliente che ho individuato chiedermi qual è il valore che il mio prodotto gli dà ok poi mi chiederò su che canali troverò questo cliente perché se io devo vendere qualcosa dopo dovrò riuscire a raggiungere questo cliente allora è importante chiedersi subito su quali canali lo posso trovare raggiungere ad esempio se è su social su quale social poi devo stanziare un budget lo devo stanziare anche se farò tutto io perché comunque il budget è un budget di tempi tempo e denaro e un budget di costi perché comunque qualcosa dovrà essere pagato quindi anche se faccio tutto da solo quindi comunque devo stanziare un budget devo chiedermi anche come gestirò la logistica perché la logistica la logistica cosa vuol dire questo parolone logistica vuol dire il trasferimento della merce ok quindi se vendo servizi questo non è un problema se vendo qualcosa di immateriale non è un problema ma se vendo un oggetto che deve essere trasferito con un corriere a casa del cliente mi devo chiedere come voglio gestire la logistica ad esempio se ho il mio magazzino interno se il mio magazzino è insieme a quello di un negozio fisico perché lì dovrò capire di non vendere ciò che è stato venduto dall'altra parte se uso invece una logistica esterna e se oppure uso un sistema di dropshipping quindi me lo devo chiedere prima questa è la pianificazione la parte più importante secondo me è questa è la prima però tutte sono importanti che strumenti ho a disposizione per pianificare beh posso usare il business model canvas che è un framework che mi aiuta a capire il mio valore e a pianificare diciamo il mio modello di business e posso usare posso fare io anche semplicemente una ricerca di mercato ci vado a vedere chi vende queste cose come fa come funziona eccetera è importante andare prima a dare un'occhiata in giro è molto importante e tanta gente non lo fa perché mi renderò conto di cosa stanno facendo gli altri e quindi mi renderò conto se c'è uno spazio per me poi voglio dire questo che è molto importante questo viene da wikipedia quindi è un testo di grande autorevolezza e però è uno spunto che vi do che ci tengo proprio a darvelo e perché ve lo do questo spunto prima di leggervelo perché tempo fa sentivo si parla sempre di nicchia nicchia di mercato qual è la tua nicchia qual è la tua nicchia la mia nicchia è delle donne di 40 anni non è una nicchia allora voglio ricordarvi che quando si parla di target in economia la nicchia questo lo dice wikipedia possiamo mettere in discussione in economia la nicchia è una parte di mercato che la concorrenza non ha ancora raggiunto ok o che è o che è sa parzialmente occupato ma in maniera tale da non venire incontro soddisfacentemente alla domanda la nicchia è piccola è alcuni strani particolari consumatori oppure tutti i consumatori per un particolare prodotto strano che solo io vendo ok quindi quando parliamo di nicchia ricordiamoci che nicchia non è target nicchia è cioè io posso avere un target cioè delle persone a cui voglio vendere che appartengono a una nicchia e quindi è importante andare altro se vogliamo vendere oggi un prodotto che altri già stanno vendendo cerchiamo di vederlo in un altro modo di raggiungere persone per un altro motivo allora lì sì che andiamo a una nicchia ok questo lo dico perché prima parlavamo di cliente valore prodotto quando dico cliente subito si parla di nicchia oggi ora sto andando via veloce però questa è una cosa per me importante ve l'ho voluto dire ok fase 2 fase 2 siamo alla fase 2 preparazione ok abbiamo capito a chi dobbiamo vendere come dobbiamo fare prepariamo e questa fase a volte viene sottovalutata quindi invece bisogna farla non parto subito preparo allora cosa devo preparare innanzitutto il brand immagine coordinata quindi devo avere un nome il logo la palette colori font posso fare anche tutto da solo ci sono dei tool tipo c'è brandmark appunto io ci sono dei tool che trovate direttamente sul sito di shopify che vi aiutano a costruire un logo quindi poi in realtà ci sono molti tool gratuiti per fare queste cose però devo avere queste cose se no non inizio a costruire poi ho bisogno i prodotti ovviamente di cui devo avere il nome il nome giusto non mi bastano quattro lettere a caratteri maiuscoli devo avere un nome logico in base a chi desidera il prodotto in base al target devo scrivere il nome giusto devo avere la descrizione del prodotto scritta devo avere delle foto del prodotto se è il mio prodotto lo devo fotografare se no devo andarmi a scaricare le foto ok devo preparare la logistica preparo il magazzino preparo comincio a fare il contratto con GLS con SDA ok se voglio usare quel corriere per spedire e spedisco dal mio magazzino quindi preparo le cose e preparo i documenti legali mi faccio dare dall'avvocato da privacy policy o dal servizio gratuito che la realizza mi faccio dare le condizioni d'acquisto ok faccio tutto questo quindi bisogna cominciare a preparare scusate il bello della diretta mettiamo mettiamo in non disturbare tutto quanto ok quindi in pratica che cosa succede succede che io devo avere i documenti legali devo avere tutto quello che serve per poter successivamente passare eccola qua alla fase 3 eccola qua vediamo se nel video riesco ecco fase 3 eccola lì la fase 3 è crea un negozio costruisco la fase 3 è la fase di costruzione cosa faccio creo un negozio Shopify ok lo creo ad esempio se lo volete far da soli c'è il corso gratuito che vi aiuta proprio in questa fase e altrimenti potete rivolgere ovviamente un'agenzia comunque è il momento di creazione poi collegherò la logistica e il corriere che devo aver capito per quello che prima ho pensato come fare perché qui ora devo farlo ed è importante farlo nel modo giusto e userò le varie app per i casi specifici cioè se devo avere una maglietta con stampato un logo particolare userò l'app che mi fa quella cosa e poi apro il negozio voilà ho aperto il negozio e questa è però la fase ho aperto il negozio ma vedete che questa è solo la fase 3 non è la fase 4 perché a questo punto arriva la fase 4 non dimentichiamoci di pensarla dall'inizio devo promuovere quello che ho fatto perché quando apro il negozio online non sta vendendo in automatico quindi fase 4 la fase 4 è la promozione la promozione detta veramente in quattro parole si riduce a queste tre parti uno attrago nuovi clienti ok questa è la lead generation o acquisition quindi sostanzialmente io genero nuovi clienti con pubblicità su facebook su google con partnership con referral in tanti modi ok poi devo coltivare i clienti esistenti politiche di retention ok quindi voglio gente che mi faccia più acquisti è ad esempio qui importante la newsletter per dire e poi voglio migliorare la performance del negozio esistente ah ho scritto ancora retention scusate ho sbagliato questa poi la correggo nelle slide che vi mando ok questa qua è la cro conversion rate optimization cioè qui voglio ottimizzare il tasso di conversione cosiddetto quindi la performance del negozio quindi in questa quarta fase devo fare queste tre cose ok nuovi clienti coltivo i clienti esistenti e miglioro il negozio poi ognuna possiamo vedere come si fa oggi come cos'è quindi il progetto e-commerce pianifico preparo costruisco promuovo shopify entra nella preparazione anche in parte entra nella costruzione entra nella promozione perché shopify ti aiuta anche a promuovere nel senso che ci sono gli assistenti per le pubblicità su facebook collego facebook instagram eccetera eccetera ti aiuta a gestire la newsletter ti aiuta in moltissime parti che riguardano la promozione ok l'agenzia se questa cosa può essere fatta da sola da un merchant tutte queste fasi possono essere fatte completamente in autonomia da un'azienda da un negoziante da un imprenditore se vogliamo farci aiutare ci possiamo far aiutare anche da persone da agenzie diverse per le quattro fasi diverse secondo me ad esempio la cosa più difficile dove più spesso vedo bisogno di aiuto è la preparazione nel senso che la cosa più difficile ad esempio è fare il logo il logo la palette colori dei testi di base dell'azienda mission vision un po' di robe però sostanzialmente il logo e alcune cose del genere grafiche su quello io consiglio di investire una piccolo budget o non piccolo come in base alle vostre disponibilità su un grafico che vi aiuti perché comunque un prodotto professionale qua va veramente a creare molto valore nel tempo ed è difficile fare questo ok quindi invece sul business plan questo sicuramente potete farvi aiutare però di sicuro comunque lì la mente dell'imprenditore è importante quindi lì comunque dovete esserci piuttosto imparate ma lì ci dovete essere molto presenti il logo una volta fatto non vi interessa quindi potete farlo fare la costruzione del negozio oggi si può fare con Shopify molto bene facilmente potete anche farvi aiutare per cose più particolari più difficili e la promozione anche lì sicuramente dovete farla voi merchant deve farla può anche ovviamente fornirsi da esterni da social media manager eccetera e quindi il merchant comunque deve esistere in quei momenti e può fare anche tutto da solo e se no ci sono una o più agenzie che si possono introdurre in questo percorso bene abbiamo finito ragazzi vedo che sono anche aumentati i partecipanti mi fa moltissimo piacere siamo 146 su YouTube ah fantastico fantastico sì 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 e non solo perché ne abbiamo anche diversi vedo da Facebook Facebook quelli non li vedo eh no no quindi comunque ce ne sono ce ne sono tanti quindi molto bene eh sì siamo sempre intorno ai 200 quindi perfetto e allora domande vanno io accorperai le domande alla fine cosa dite eh vogliamo fare sì facciamo una sessione alla fine no? se no magari aspetta ne rispondo giusto due una è questa di Antonella torniamo in video c'è qualche template che consigli di seguire per compilare un business model canvas sì c'è il business model canvas è lui stesso un template grafico e sul sito Tunca nel blog trovate l'oggetto da scaricare quindi andate sul sito tunca.it blog cercate business model canvas troverete il pdf da scaricare questo è uno questo è per Paolo buongiorno sono utente registrato e vorrei testare un secondo e-commerce posso offrire dei 90 giorni di test gratuiti? sì cioè i 90 giorni di test gratuiti sono disponibili per tutti i nuovi e-commerce che vengono creati ok perfetto poi abbiamo allora riguardo la GDPR cosa consigliate di fare ci sono software validi non so Jacopo se vuoi dire tu qualcosa allora sì quindi è sempre bene riferirsi a un vero e proprio professionista però ecco Shopify è compliant GDPR per poi tutta la parte di privacy policy ci sono strumenti o di insomma parte legal ci sono strumenti da utilizzare mi vengono in mente delle app oppure per la cookie policy app per quanto riguarda appunto i termini e le condizioni quindi sì basta andare nel marketplace di Shopify ce n'è ce n'è veramente tantissimo c'è UBENDA LegalBling UBENDA è la prima cioè ce ne sono posso aggiungere dato un'occhiata anche al blog di Shopify in italiano perché anche ci sono diversi articoli dove spesso parliamo di queste tematiche che sembra non siano direttamente connesse alla creazione di unicommerce però sono una parte fondamentale quindi dal blog seguitelo prossimamente credo ci sarà proprio un articolo di UBENDA su questo tema quindi fatevi abbiamo Roberta che chiede potrai avere maggiore informazione su collegamento Facebook e Instagram a loro volta collegati ai business manager di Facebook grazie Roberta è facile si fa dalle impostazioni di Shopify inserisci direttamente cioè colleghi direttamente Facebook e Instagram e ti trovi dentro i prodotti e tutto quanto poi nel business manager c'è altro da Paolo tu qui sei più esperto sì allora ci sono due app che possono essere scaricate che sono gratuite sviluppate direttamente da Shopify in collaborazione con Facebook quindi può essere aggiunto il canale Facebook può essere quindi la ShopTab anche se la ShopTab dico sempre che ha pochissimo traffico perché è qualcosa di disponibile solamente via desktop che è una parte minimale del traffico di Facebook però può essere sincronizzato il catalogo in modo da fare poi gli annunci di amici su Facebook e su Instagram può essere installato il pixel anche in maniera molto veloce e rapida quindi sì ci sono queste due app poi in realtà si può installare anche Messenger eccetera però insomma ci sono questi due canali che sono stati sviluppati direttamente da Shopify e sono gratuiti da usare quindi app nel marketplace trovate tutto ottimo perfetto questa abbiamo già risposto i webinar rimangono registrati sì li ritroverete agli stessi link a cui siete collegati ora e aspetto un attimo che ce n'è un altro allora sì ho veduto tante domande ma devo mettere un attimo un tempo per leggerle nel frattempo direi c'è Jacopo che farà la sua presentazione e io cercherò un attimo di fare lo screening per una lista esattamente sì 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 allora inizio a condividere intanto che vai Jacopo allora buongiorno a tutti grazie a Emilio e Paolo e grazie a tutti quelli che ci stanno vedendo ascoltando io sono Jacopo Pecchi lavoro in Sintra Digital Business e mi occupo di e-commerce sono il responsabile dell'area e-commerce di Sintra e cosa faccio? costruisco e progetto e-commerce con specificità sul settore dell'omnicanalità oggi di che cosa parlerò? parlerò di omnicanalità ma anche di altri temi un pochino più pratici e un pochino più attuali vi farò vedere che cosa si intende quando si vuole sviluppare un business omnicanale cos'è Shopify Plus perché noi lavoriamo molto su questa piattaforma sulla parte più enterprise ho dovuto inserire covid-19 perché assolutamente entra in contatto con l'omnicanalità e dopo vedete perché e poi in fondo ci sono sei slide in cui andrò a elencare una selezione di app Shopify presenti nel marketplace e installabili che possono essere utili per le strategie multicanale e omnicanale che cos'è l'omnicanalità? come vedete in questa immagine c'è l'utente al centro intorno c'è il negozio fisico Amazon un computer Facebook e l'email questi sono tutti i canali che tra loro sono interconnessi quindi l'omnicanalità è la gestione dei canali di canali di vendita interconnessi tra loro con il fine di ottimizzare l'esperienza di acquisto di iterazione e acquisto tra brand e azienda ripeto possono essere diversi dispositivi tecnologici il desktop può essere mobile possono essere negozi il Facebook Facebook channel Instagram shoppable eccetera eccetera e perché è importante l'omnicanalità? è molto semplice perché più canali un utente un cliente utilizza più vende più il merchant vende e qua siamo per l'obiettivo di Shopify è permettere ai clienti qui ai merchant di creare e-commerce che vendano quindi il business è proprio l'obiettivo con Sintra in Sintra lavoriamo molto su Shopify Plus Shopify Plus è la piattaforma enterprise di Shopify e è nato appunto per l'omnicanalità perché? perché vi spiego subito queste sono le sue caratteristiche innanzitutto la grande differenza rispetto a Shopify standard è che Shopify Plus permette di avere più canali di vendita hai fino a 10 clone stores hai un checkout personalizzabile hai delle transaction fee più basse perché? perché Shopify Plus è adeguato e adatto per business che iniziano a sviluppare 800-900 mila euro all'anno ha una scalabilità delle performance migliori quindi in termini di velocità puoi integrarti con sistemi di gestione delle identità esterne quindi il cosiddetto single sign on con la funzionalità specifica multipass hai delle app dedicate per Shopify Plus che sono launchpad per programmare le vendite flow per automatizzare i task e script per personalizzare spedizione e pagamenti e ti permette sempre in modalità con di clone stores di creare infrastrutture headless dove il front-end è staccato dal back-end quindi un front-end custom magari con Vue.js sono tecnologie di front-end e dietro più Shopify Plus più istanze Shopify che parlano con GraphQL al front-end Shopify Plus è nato per permettere ai brand di vendere in maniera omnicanale e su tutto il mondo quando si realizza quando si progetta un sito Shopify Plus si parla di multilingua si parla di multilistino di multivaluta e si parla di integrazione dei sistemi e la problematica è sempre quella di unire e unificare i canali di vendita ecco perché il tema dell'omnicanalità è attuale in Shopify uno schema molto veloce su come cambia l'infrastruttura l'architettura di uno Shopify è singolo rispetto Shopify standard piano standard i tre piani standard rispetto a uno Shopify Plus si passa da un unico punto quindi un canale di vendita e-commerce a più canali dobbiamo dire che anche Shopify è stesso nelle versioni base è multicanale e omnicanale perché ha il Facebook Store l'Instagram shoppable quindi ha più canali di vendita in Shopify Plus questa cosa è più è esponenziale perché come vedete ci sono tre istanze in questo in questo diagramma di destra ci sono tre istanze Shopify Plus c'è un'integrazione con il punto fisico e c'è un'integrazione con i canali di vendita Amazon e Facebook noi andiamo a gestire quindi tutti questi progetti di Shopify Plus inserendo una hub che è il gestore di tutti i flussi dati delle petteforme converse andando ieri a fare queste slide sull'omnicanalità non ho potuto non inserire non ho potuto non cambiare rotta non ho potuto quindi andare verso questa edizione straordinaria dell'omnicanalità che è quella che ci tiene stretti e chiusi in casa in questo momento siamo in quarantena forzata no siamo in sì lo sappiamo siamo in omnicanalità forzata cioè siamo non abbiamo non sappiamo qual è il futuro qui è una parentesi un po' un po' un po' triste ma ora vedremo anche con prospettive non sappiamo qual sarà il futuro del retail siamo in un momento in cui le aziende sono fortemente spinte verso una innovazione tecnologica e purtroppo questa spinta è data dal coronavirus siamo in una grande crisi ma che dall'altra faccia della medaglia ha anche e permette grandi opportunità quindi quando in questo settore in questo settore diciamo digitali in cui si vedono in questo momento scusate in cui si vedono cose negative e positive cosa c'è da fare vediamo l'omnicanalità in questo momento io ieri ho provato a cercare di capire come è cambiata la vendita quindi in modo multicanale e omnicanale in questo periodo ecco tutte le aziende che prima del coronavirus hanno adottato un approccio multicanale meglio omnicanale hanno come fatto un backup della loro azienda pensate a tutte le catene a tutti coloro che hanno negozi fisici che sono chiusi e che non hanno un e-commerce adesso è come avere le fotografie nel proprio hard disk del computer e non avere un backup chi ha adesso un e-commerce pensiamo a coloro che ha i ristoranti ecco ha una specie di backup aziendale per poter almeno sopravvivere ecco quindi questo l'omnicanità in periodo covid-19 prende questo sapore prende questo sapore di backup aziendale adesso come non mai è il momento di progettare l'azienda omnicanale sia perché siamo a casa sia perché magari abbiamo più tempo sia perché possiamo concentrarsi in una nuova rinascita e siamo tutti in smart working ma prima di poter progettare l'azienda omnicanale è necessario comprendere e fare un attimo una lista di come ci sta cambiando la vita in questo momento ho veramente fatto una lista velocissima in un minuto e ho elencato queste cose spero condivisibili da tutti ci stiamo trovando in un periodo in cui facciamo la spesa da caso o almeno ci proviamo almeno proviamo a andare in coda nei servizi di Selunga Conad eccetera abbiamo necessità non possiamo accedere a cura o benessere della persona io penso che finito questo periodo di chiusura andremo a farsi i capelli salute permettendo quindi in questo momento sto parlando di cose diciamo leggere ma permettetemi siamo in un ambiente digitale quindi l'importante è la parte di salute stiamo parlando di altre cose un po' più futili però permettetemi questa cosa acquistiamo su farmacie online c'è un grande utilizzo dei social un grande volume di traffico come state vedendo sono cambiati due aspetti molto importanti sia nelle spedizioni sia nei pagamenti i corrieri spediscono a vista non si fa più la firma non c'è più firma quindi anche qua è cambiato il processo di consegna così come sono cambiati il processo di pagamento adesso guardavo una statistica nessuno più o almeno in pochissimi ordinano in contrassegno perché vogliono evitare il contatto fisico la trasmissione di contanti al corriere anzi molti corriere non accettano pagamenti in contrassegno per ultimo c'è anche chi ha visioni catastrofiche sulla sulla nostra economia e dopo vi spiego perché ho inserito questa questa parte quindi questa è un po' la situazione istantanea la fotografia istantiana di questo momento brutto quindi come si può andare a progettare l'azienda omnicanale la prima cosa da fare è aprire un canale di vendita digitale che sia Shopify che sia il Facebook store che sia tramite Shopify che sia l'Instagram un nuovo canale su Shopify e poi andare a capire come mettere in rapporto e comunicazione quindi in sinergia tra di loro i vari canali di comunicazione vi darò adesso degli esempi concreti con facendo parlando sia di processi di business quindi nuovi canali di vendita ma anche dando delle app mostrandovi delle app che possono essere installati sia su Shopify standard che su Plus che permettono appunto di intraprendere iniziare la strada dell'omnicanalità come vedete qua c'è ci sono pick up gli esempi che vi faccio sono pick up in store per tutti quei negozi che sono aperti vendita in drop shipping ho visto anche delle domande su Facebook provenienti da Facebook che chiedono come aprire un negozio in drop shipping virtual showroom per il fashion il fashion si trova in un momento molto duro perché con i negozi chiusi e con l'impossibilità di venire in contatto come il prodotto lo si può solo assaporare digitalmente e questo tramite una fotografia non è molto facile per tutti i buyer così come iniziare magari a vendere corsi o servizi vediamo i nostri i corsi di Emilio che stanno andando alla grande e sono anche molto utili iniziare anche con le subscription quindi vendere prodotti o e o servizi in abbonamento è una cosa che all'estero ormai è diventata un'abitudine quindi Italia sta arrivando adesso così come pagare magari con metodi evoluti andiamo a vedere la prima app che vi mostro è un'app che si chiama che permette il ritiro della merce in negozio quindi l'acquisto online e il ritiro della merce in negozio si chiama pick up in store click and collect che possono in alcuni vocabolari essere più o meno la stessa cosa comunque a cosa serve quest'app abilita la funzionalità di ritiro della merce presso il negozio la funzionalità specifica dell'app è che ti permette in carrello quindi ripeto in carrello è molto importante perché nel check out di Shopify standard tu non lo puoi non è modificabile non puoi farlo di Shopify esatto standard ti permette di selezionare il negozio di spedizione ti permette di azzerare i costi di spedizione quindi se tu ritiri il negozio non paghi la spedizione e anche selezionare l'ora in cui tu ti presenterai in negozio facciamo un esempio una vendita di prodotti alimentari installare questa app potrebbe permettere di togliere la fila o magari permettere di avere meno contatto possibile con persone esterne seconda app dropshipping questa app si chiama autofulfill allora su Shopify c'è un monte di app c'è tantissime app che ti permettono questo metodo legge di vendita che cos'è il dropshipping il dropshipping è la vendita di prodotti ad utenti finali senza che il merchant sia in possesso di questi prodotti è il fornitore che andrà una volta ricevuto l'ordine su Shopify e comunicato al fornitore andrà a effettuare la spedizione direttamente al cliente finale Shopify la prima app più famosa che permette su Shopify sul marketplace si chiama Oberlo qui non l'ho riportata Oberlo è veramente un'app fantastica per chi non non conosce diciamo fornitori e vuole creare uno Shopify per mettere in vendita prodotti direttamente da Alibaba o Aliexpress questa invece è un'app che ti permette di dialogare con magari propri fornitori locali e quest'app cosa fa che funzionalità ha ti permette di inviare ai fornitori una notifica dell'ordine avvenuto per ogni fornitore genera una piccola pagina in cui il fornitore può andare e magari inserire il tracking per la spedizione quindi inserire i dati della spedizione e anche inviare un email di notifica per ogni azione che viene fatta ho lasciato in fondo un esempio di sito che usa questa app virtual showroom esiste esigenza di poter toccare un pochino più da vicino dei prodotti Shopify da circa due anni ha messo a disposizione prima attraverso un'app ma poi addirittura dentro il back end dentro la scheda prodotto di caricare un modello 3D di una scarpa di un prodotto scusate e poterlo vedere sia in 360 ma sia anche in realtà aumentata se voi andate con chi ha iPhone o iPad e ha sistema operativo maggiore di iOS 11 quindi da iOS 12 dice in poi può vedere in realtà aumentata l'app vi faccio vedere come si vede quindi questa è una scarpa da donna che viene il modello 3D viene posizionato su un piano su questo parquet e è possibile zoomarla e girarla intorno come vedete la scarpa non c'è e vedere tutti i dettagli ecco questa funzionalità è già integrata in Shopify vado avanti pagamenti in criptovalute non voglio spingere nessuno a fare investimenti in criptovalute però ho voluto inserire questo metodo innovativo di pagamento perché che tra l'altro è già presente in Shopify da circa due anni perché è un nuovo metodo di pagamento che è un po' che si sente di cui si sente parlare in questo periodo a cosa serve abilita pagamenti tramite bitcoin ed ethereum quindi un merchant che vuole essere pagato in bitcoin o ethereum o in stablecoin tipo dash lo può fare e per esempio basta registrarsi su piattaforme come coinbase aprire un wallet e integrare il proprio wallet come metodo di pagamento nei metodi di pagamento disponibili dentro paypal immaginate la situazione l'obiettivo di queste criptovalute non è quello di fare investimenti o speculazioni assolutamente immaginatevi un futuro in cui magari non dovremo andare da un notaio per fare un contratto ma potremo acquistare questo contratto online magari su un sito internet che accetta pagamenti in ethereum e questo contratto viene registrato su una blockchain pubblica e sicura questo è un futuro è un'ipotesi futuribile passiamo alla vendita di prodotti e servizi in abbonamento l'app numero uno per fare questa cosa è Recharge subscription by Recharge Recharge è un'azienda americana che è molto un'azienda che sta diventando molto grande che ha anche una sua app e ti permette di fare di abilitare abbonamenti di servizi o prodotti su Shopify pagabili tramite Paypal Stripe Braintree e Apple Pay la funzionalità quindi è quella di vedete nella scheda prodotto abilitare la subscription quindi abbonamento ogni settimana ogni mensile ogni X tempo e poi ti permette anche al merchant Shopify di mettere a disposizione un customer portal quindi un'area riservata nel quale il cliente finale può gestire il suo abbonamento abbiamo fatto realizzato il sito che vende le copie digitali del Corriere dello Sport il sito del Corriere dello Sport è fatto con Shopify con Recharge per gli abbonamenti per ultimo la vendita di videocorsi streaming video e prodotti e file digitali e file scaricabili una delle app migliori è Skypilot faccio una precisazione tutte queste app possono essere anche sostituite da sviluppi custom però lo sviluppo custom sappiamo che è un po' più costoso e magari un po' più a seconda delle esigenze del cliente per chi vuole iniziare molto velocemente le app sono perfette quindi questa app permette di inviare file con limite di download con tempistica limitata o anche streaming video al cliente che ha acquistato il prodotto vi lascio una lunga paginetta che andiamo a leggere qua ma che è un esempio concreto di omnicanalità così almeno avete una scusa per poter andare a scaricare le vostre le slide e iscrivetevi mi raccomando al sul canale di virtual shopify meetup e grazie a tutti bene eccoci qua che torniamo in in schermo dopo aver dopo la presentazione di Jacopo grazie Jacopo della presentazione ti facciamo un applauso virtuale anche questo perché a te a voi perché non possiamo sentire quello dei partecipanti e per oggi sono state nel frattempo tante domande tante domande e voglio ricordare che la presentazione di Jacopo iniziava sul shopify plus ma tutto quello che ha detto dopo non era per forza per negozi plus cioè tutti i consigli che ha dato dopo valgono per ogni tipo di negozio anche esatto basic tutte le app sono anche per i negozi standard shopify standard ok allora dunque ecco alcune domande a cui voglio rispondere così rapidamente vediamo un attimo la prima è di margherita che chiede i contatti di persone registrate sul sito si possono usare per una mailing list creata posteriormente vuoi rispondere tu Jacopo è rapida secondo me la risposta qua allora direi sì solo se sono state accettate le condizioni certo dentro shopify quando tu quando il cliente si registra no ha il flag per il marketing quindi chiaramente rimane dentro shopify quando collego anche un anno dopo un sistema di mailing si sincronizza e ha accesso alle email precedenti quindi sì puoi farlo tranquilla dunque allora questa domanda calda di Riccardo non è possibile avere sito multilingua senza ulteriori app a pagamento chi vuole rispondere qua vado vado io a meno che Paolo non abbia una news live da shopify esatto che oggi rilascia no purtroppo no quindi lascio a te la parola allora quindi non è possibile avere il sito multilingua senza ulteriori app a pagamento in questo momento se si intende per multilingua la possibilità al lato frontend quindi cliente finale di switchare la lingua no bisogna usare delle app che faccio dei nomi possono essere Langify o Wiglot che sono molto famose con recensioni ottimi altrimenti si deve duplicare lo shopify e qui infatti ecco la domanda gemella di Alessia che chiede se voglio creare la stessa boutique in più lingue devo creare diversi account oppure basta fare una copia del tema e tradurlo in altre lingue comunque diciamo devo creare più account shopify volendo sì se no posso usare le app e ci stava appunto spiegando Jacopo esatto quindi avere due shopify rispetto a uno è comunque un costo non tanto nei 29 79 euro al mese ma è un costo di gestione quindi è sempre importante capire e essere consapevoli di quello che si fa alcuni brand più grandi anche perché magari a volte vanno a gestire il multilistino quindi hanno un prodotto che vendono a 100 euro in Italia lo stesso prodotto lo vendono a 120 o 90 in Francia o in Europa o in America vanno a risolvere il problema avendo più istanze shopify che possono poi andare anche a convertire su shopify plus quindi la scelta sta sempre a un'attenta analisi fatta a priori a un'analisi come diceva Emilio poi del mercato del target anche del fatturato in un certo mercato se tu hai un ordine all'anno su un mercato non ti conviene tanto aprire una nuova istanza dedicata quindi se invece ci vuoi investire e se non ci vuoi investire se invece ci vuoi investire allora hai il suo perché è comunque importante presidiare il canale di comunicazione quindi il canale di vendita cioè non aprire uno shopify solo per un'altra lingua ma perché avrà una serie di caratteristiche magari valuta differente prodotti con listino prezzo differente lingua ad hoc per il mercato pagamenti per quel mercato allora ne vale la pena e anche Jacopo io aggiungerei che comunque quando parliamo di queste app a pagamento parliamo comunque di pochi dollari cioè adesso l'anguify sono 17,50 al mese se non lo fai quindi alla fine se si ha intenzione di operare in un mercato nuovo cioè comunque parliamo di un investimento poco più di pizza e birra zero assolutamente un problema esatto è che è più costoso tradurre il catalogo gestire un altro mercato che pagare quei pochi euro perché parliamo di 7,10,12 metti pure 20 euro allora al mese cioè Shopify una scelta che ha fatto è stata di non inserirli nel canone e invece costa meno e poi se vuoi paghi in più quella cifra pagando l'applicazione che vuoi tu perché a questo punto puoi sceglierla questa è una domanda analoga è possibile tradurre il check out in più lingue sì è possibile e tipicamente dall'applicazione cioè l'applicazione che ti gestisce multilingua fa sì che poi si vada al check out nella lingua corretta comunque è possibile esatto aggiungo una cosa per quanto riguarda il pagamento delle fee mensili delle app noi italiani siamo un po' poco propensi a pagare i 20 dollari al mese ma se proviamo a dividere il costo che ci può costare un'implementazione su altri sistemi magari platform as a service magari di 3.000 euro e proviamo a capire quanti mesi da 20 euro ci possono entrare in 3.000 euro quindi il fatto di avere un'app ci permette di andare online subito con la soluzione voluta di poter cambiare magari velocemente dopo 6 mesi e quindi iterare sbagliare e migliorare il proprio commerce puntando sempre al target più vicino ok una domanda sul dropshipping di Vittorio una domanda di non facilissima risposta nicchia molto generale nicchia cosa consigliate per scegliere il prodotto la nicchia giusta beh tanta ricerca se posso forse rientra più nelle cose che dicevo io prima io consiglio consiglierei di fare ricerca di andare a scoprire anche in altri mercati diversi dal nostro tipo americano inglese cosa sta succedendo su un'idea che hai cosa la gente compra cosa gli interessa e perché e poi quindi eventualmente partire da quello e cosa ne pensate di Udroppi mi piace mi piace Udroppi è una buona soluzione secondo me e ditemi voi se no anche Jacopo e Paolo cosa ne pensate di Udroppi beh allora su Udroppi siamo in contatto Shopify è direttamente in contatto con Udroppi appunto perché ripetiamo una realtà valida insomma stanno pensando di sviluppare proprio una app pubblica nel marketplace creeranno dei contenuti per noi sul dropshipping quindi anche lì vi rimando sempre al blog dove soprattutto in questo periodo ma per tutte le settimane successive ad oggi diciamo abbiamo una quantità di contenuti da pubblicare su tutti gli argomenti fra cui anche appunto come iniziare dove nella categoria come iniziare il dropshipping chiaramente rientra ottimo allora una domanda ridicola però così stemperiamo un attimo ridicola no la domanda è giusta ma non è il tema che tu stai utilizzando per la diretta moriremo prima di dirlo sì sì quando quando stavamo adesso ve lo dico fra poco quando stavamo organizzando questo meetup virtuale visto che il primo in Italia non si era mai fatto allora ci siamo detto come facciamo facciamo webinar chiuso facciamo una live e lì parlavamo pensavamo e poi alla fine abbiamo usato questo strumento che è uno strumento pensato per fare delle live che si chiama stream yard ed è gratuito noi non stiamo usando la versione gratuita però esiste anche la versione gratuita che vi consiglio provate lo stream yard allora quindi questo è per Paolo io avrei un e-commerce chiede Antonello che è fermo da mese in quanto ho dovuto rivedere il BSN c'è la possibilità che non so cos'è il BSN scrivimelo Antonello per favore non lo so c'è la possibilità di sospendere il canone mensile tenere congelato lo store ok quindi questa è la domanda allora io penso che il BSN forse sarà il business può darsi può darsi sì c'è la possibilità di sospendere il canone mensile tenere congelato onestamente non ho idea credo di no sì si può rimane paghi un canone mensile minore paghi un 7 dollari se ricordo io l'ho detto ragazzi sono qui da due mesi quindi ma comunque su quello che so è che c'è il canone di supporto dove insomma ci sono i Shopify gurus che insomma sono in grado di rispondere a queste domande quindi fate riferimento pure a loro e ovviamente tutto quello che si può fare per aiutare soprattutto in questo periodo cercheranno di farlo sul multilanguaging road map quello che posso dire quello che però posso dire diciamo dietro a questa domanda secondo me c'è anche un po' la voglia di sapere quanto Shopify investirà in mercati che sono fuori dagli Stati Uniti io vi dico che il focus è enorme in questa fase nel senso c'è la consapevolezza aziendale che prima abbiamo visto ci sono milioni di negozi su Shopify c'è la convinzione che il prossimo milione arriverà dall'internazionale quindi fuori dal Nord America e infatti da un paio d'anni avete visto che Shopify è diventato in italiano in spagnolo in francese in tedesco cose che fino a due o tre anni fa non c'erano io credo che in italiano l'abbiano tradotto forse meno di due anni fa se non sbaglio esatto la traduzione è stato chiaramente il primo passo il secondo il terzo il quarto passo sono nel renderlo quanto più italiano possibile per renderlo più italiano possibile ecco ci sono anche io che sono un esperimento cioè comunque sono la prima persona che è fisicamente nel mercato italiano quindi questo è ancora un più una prova che c'è l'interesse di investire di più su mercati che sono che non sono quelli americani ok grazie mille Paolo vedi che Antonello ci conferma che in effetti è un business come tu dicevi allora una domanda per Jacopo se vogliamo se vuoi il dropshipping in collaborazione con più shop reali quindi non è il dropshipping magari dalla Cina ma mi viene in mente l'esempio non so di Bottega Sicana che abbiamo trattato sul gruppo e ho anche intervistato io per cui ad esempio loro raccolgono produttori che hanno il loro prodotto e spediscono quei prodotti alimentari quindi un caso del genere in questo caso è possibile inserire più caselle buy con differenti prezzi Emilio scusami a proposito di Bottega Sicana perdonami se ti ho interrotto e per chi volesse sapere di più di questa modalità comunico un altro evento live probabilmente oggi ognuno anzi in realtà sono un video registrato proprio dell'esempio di cui tu parli Emilio di Bottega Sicana che oggi verrà intervistata da Marco Montemagno proprio nell'ambito di un progetto che Shopify sta facendo con lui quindi nel pomeriggio troverete un video sui canali di Marco Montemagno quindi la sua pagina Facebook LinkedIn Instagram dove parlerà l'app di un'oretta circa con i ragazzi di Bottega Sicana poi bisogna sperare che Shopify regga la botta di acquisti sul sito di Bottega Sicana subito dopo ce la farà bene bene perfetto dai dicevi Jacopo per il discorso allora quindi diciamo che tutto quello che si vede in un'app è anche realizzabile in maniera custom quindi quando Shopify è molto versatile in termini di programmazione ovviamente utilizzando agenzie utilizzando dei sviluppatori esperti quindi Dennis chiede per avere inserire più caselle buy con prezzi differenti immagino che in scheda prodotto tu avrai più prezzi a seconda del produttore immagino questo quindi è possibile basta immaginare questo il il supplier come quindi il produttore o i differenti fornitori come un una una variante prodotto quindi come taglia S taglia M taglia L quindi produttore 1 produttore 2 produttore 3 e quindi andare a a implementare quello che chiedi se ho capito bene ottimo ottimo benissimo allora dunque sì Fabien ci conferma che quando ha iniziato non c'era infatti l'italiano quindi e ancora oggi con la volta mi convenziamo in tutti i pezzi ecco ho una domanda per Jacopo di Francesco Maria De Biasio che tra l'altro è uno degli Shopify expert che salutiamo ciao Francesco e Shopify plus effettivamente offre diverse istanze ma ancora non c'è un app ufficiale pannello per sincronizzare tutti gli store prima Jacopo parlava di un app è una soluzione personalizzata o si utilizza un servizio terzo tipo bin the commerce domanda difficile però la domanda diciamo chi usa Shopify plus o usa più istanze ha sempre questo problema doverle tenere sincronizzate in termini di stock quindi inventario prodotti creazione anagrafiche prodotto quindi devi creare un prodotto inserire un prodotto nuovo devi crearlo su tutti gli store così come indietro ottenere gli ordini ci sono prodotti che vengono al mercato americano ma sono un po' costosi e comunque quando un'azienda va crea un progetto Shopify plus deve comunque integrare i propri sistemi magari il CRM magari se faccio un esempio Salesforce o l'IRP e quindi c'è sempre un grado di customizzazione che va dal 20 al 40% in un progetto devo dire mi posso fare pubblicità però abbiamo noi in Sintra abbiamo sviluppato un'app che un'app appunto che va a gestire tutti questi flussi e si chiama non è rilasciata nel marketplace appunto perché comunque è un'app che richiede quel 30% 20% di personalizzazione sul business del cliente ma permette di tenere aggiornate tutte le istanze di Shopify quindi nel caso si contatta Sintra e si chiede di configurare quest'app grazie grazie per la sponsorizzazione allora dunque un'altra domanda estemporanea domanda off topic per Emilio che modelli di microfono usi l'audio e il top qualche siamo sempre che io sono sparo a zero su attrezzature questo qui è il road procaster quello che vedete in video si chiama così allora questo invece per Paolo parlando di numeri chiede Stefano in Italia indicativamente parliamo di indicativamente perché sappiamo che non si può dare attività quanti store Shopify sono attivi allora sì come ogni buona azienda nordamericana purtroppo i dati locali si condividono poco o nulla diciamo che ci sono un bel po' di migliaia di negozi attivi quello che condividiamo sì e che ho condiviso per la prima volta oggi è il numero di persone che hanno acquistato almeno una volta l'anno scorso su un negozio che gira su piattaforma Shopify che sono i 2 milioni di italiani ok perfetto poi abbiamo dunque ci sono alcune domande sul dropshipping simili una è questa di Giuseppe che dice potete consigliare un'app dropshipping che spedisce in massimo 2-3 giorni lavorativi o anche prima e anche top eventi store che potete consigliare un'app dropshipping presente in Europa che spedisce in massimo 2-3 giorni lavorativi il dropshipping non è il mio settore principale normalmente io lavoro con produttori o gente che spedisce il proprio prodotto e so che alcuni hanno ad esempio io so per esempio che Udroppi consente di acquistare degli stock di prodotti che tu sai che vuoi vendere in dropshipping e stoccarli in un magazzino europeo questo ti permette poi di avere una consegna rapida credo che questa sia una soluzione se voi avete altro da aggiungere no dipende esatto dal produttore da dove viene spedita la merce per esempio Oberlo in America funziona benissimo perché Alibaba ha anche magazzini in America e quindi quando spedisci su territorio e la merce è presente la consegna è in quei tempi lì 2-3 giorni mentre se tu crei adesso in Italia con Oberlo e si fai spedire dalla Cina ci vogliono 20 giorni poi il reso è sempre un po' un dilemma ecco però mi dicevi tu sì questo riguarda l'invio di prodotti insomma i classici prodotti che si trovano in dropshipping però secondo me è interessante anche parlare qui della stampa della print on demand che anche quella lì è una forma di dropshipping e in questo caso utilizzando app come ad esempio Printful mi viene in mente dove praticamente si crea un negozio su Shopify si installa questa app si creano i prodotti virtuali quindi la maglietta con la stampa che si vuole la tazza con la stampa che si vuole e poi insomma Printful ogni volta che entro un ordine l'ordine viene gestito da Printful che lo spedisce in questo caso la spedizione siccome Printful la fa da anche da un magazzino credo da Barcellona dunque ha due tre magazzini in Europa la spedizione avviene in due o tre giorni sì c'era qualcuno che aveva fatto domande specifiche su oggetti ma non all'inizio su pantaloni pantaloni da stampare esatto su pantaloni da stampare e se non sbaglio la domanda era se poi chi te li stampa ti trova anche il cliente nel caso in cui tu usi Shopify no nel senso che sei il tuo store sei tu il cliente diventa il tuo però è anche un vantaggio perché questo ti permette di avere un margine maggiore ti permette anche di poterlo ricontattare con la retention eccetera eccetera quindi è un vantaggio se vuoi da Shopify lo metti su una piattaforma il tuo prodotto tipo non so ebay e a quel punto lì puoi anche usare il cliente della piattaforma dunque è giusto pubblicizzare questa l'ho già messa no è giusto pubblicizzare o crescere su un solo social e poi espandere e fare pubblicità ovunque grazie io direi se posso rispondere io direi sì è giusto perché parti da quello che secondo te è il canale principale nel senso che tu non puoi partire su cento cose se no non ce la fai quindi tu decidi dove vuoi partire decidi qual è il canale principale su cui è presente il tuo cliente e lì investi lì parti quando hai una credibilità lì poi puoi espandere sugli altri nel frattempo magari sugli altri fai qualche piccolo test quindi direi sì dunque questo non so chi vuole rispondere a Walter Walter chiede sono un utente vorrei sapere se pensate che questa attività possa essere utile anche chi come me produce oggetti unici pensiamo all'artigianato pensiamo all'oreficeria pensiamo all'arte no beh Walter tu sei proprio il client ideale di Shopify in realtà nel senso che non c'è business migliore che possa beneficiare di una piattaforma come Shopify come un artigiano che produce progetti unici infatti anche qui come azienda stiamo in contatto proprio con realtà come commercio con fartigianato per spingere l'adozione della piattaforma per i piccoli imprenditori piccoli medi imprenditori come puoi essere tu quindi assolutamente la risposta è sì e peraltro sul blog di Shopify Italia ci sono diversi articoli proprio pensati per te Walter quindi vai a leggerli vai e te li consiglio abbiamo un Sara che chiede se si può se si può con il piano base vendere anche B2B cioè fanno vendita da azienda ad azienda allora ci sono anche qui ci sono diverse app che si possono usare nel senso che quando pensiamo B2B pensiamo principalmente a Plus perché c'è una app sviluppata per Plus da Shopify per abilitare il canale B2B però in realtà ci sono tante app sviluppate da terzi quindi da agenzie terze per abilitare il canale B2B però anche qui io rimando a chiedo a Emilio e a Jacopo di correggere la mia risposta nel caso in cui c'è l'applicazione Sintra anche qui dovete usare vedi in questi casi tecnici ci viene in soccorso Jacopo allora il problema principale è che dobbiamo avere la partita IVA e il codice SD perché per fare un evento B2B dobbiamo far fattura di conseguenza ci serve quello per avere questi dati se vogliamo avere quelli dati validati e essere sicuri di ottenerli c'è la pratica applicazione che ha fatto la società di Jacopo che si chiama Sintra e la quale e la trovate sullo store e si chiama Jacopo questa applicazione manager fatturazione elettronica che è fattura elettronica sì volevo aggiungere una cosa che nel marketplace è molto importante perché non si vede molto bene esiste una categoria di app per l'Italia cioè se si va su apps.shopify.com nel menu c'è app per l'Italia che sono una serie di app per il mercato italiano sono molto utili e c'è anche questa per chi vuole fare fattura elettronica ma reintegrandosi con fattura 24 o fatture in cloud e rispondendo a Paolo per il B2B assolutamente ci sono applicazioni basta cercare wholesale sull'app che vanno anche su Shopify piani standard piani base dunque Antonio ci chiede se è possibile pubblicare i prodotti presenti su Shopify anche sui canali Amazon Italia ed Ebay con i piani da 29,79 immagino che qua ci stiamo riferendo al fatto che le applicazioni native di Shopify per andare su Amazon e Ebay sono riferite ai dollari quindi in realtà si possono usare solo se la tua vendita è in dollari e vendi sulle piatta quelle lì sono native proprio integrate in Shopify come canali di vendita però se non sbaglio Jacopo assistimi c'è la possibilità bisogna usare delle altre app ci sono app che ti permettono di pubblicare prodotti se tu hai iniziato prima con Shopify e poi vai su Amazon o anche viceversa quindi veramente non mi non sono un esperto marketplace e soprattutto non ce n'è veramente tante ogni cliente usa la sua per meccanismi per magari per numero di canali di vendita su Ebay su Amazon quindi però ci sono sia che tu abbia Shopify e voglia andare su Amazon che viceversa sì ne ho viste anch'io e so che comunque lo fanno quindi si può sicuramente fare sì allora WorldCom chiede con anche una certa diciamo energia questa cosa che vogliamo assolutamente rispondergli si possono confrontare i risultati ottenuti in una determinata data comparandoli con lo stesso giorno della settimana precedente sì direi di sì allora dipende cosa intendiamo per risultati e qual è il sistema di analisi che stai utilizzando sicuramente lo puoi fare con Google Analytics che si configura nativamente su Shopify e ti consiglio assolutamente di farlo penso io non uso molto il pannello analisi di Shopify perché preferisco utilizzare Google Analytics e altre sorgenti di dati però tipicamente penso si possa senza ditemi voi Jacopo tu hai un'esperienza specifica su questo? no in questo momento dovrei provare però esattamente come dici tu Analytics stiamo numero uno con Analytics lo fai senza veramente senza problemi in due click dunque allora Oberlo abbiamo una domanda su Oberlo può supportare anche chiede Enrico il collegamento dello store con prodotti di produzione su Amazon consigliate qualche altra app nel caso Oberlo è di Shopify dopo che è stato acquistato proprio da Shopify come prodotto sì penso non lo so non ho capito bene intende il collegamento con prodotti di produzione non lo so forse con qualche fornitore non presente in Oberlo si può darsi perché usi Oberlo perché vedi ad esempio ci sono molte integrazioni che passano attraverso altre integrazioni ieri per esempio dicevo MailChimp non lo puoi più collegare con Shopify direttamente però esiste un'app che si chiama ShopSync con cui colleghi MailChimp e uno mi ha fatto giustamente notare guarda che se installi Privy Privy è un'altra app che è molto usata usi quella usi direttamente Privy per sincronizzare MailChimp quindi in realtà così fai a meno hai un'app in meno e un passaggio in meno quindi sostanzialmente in realtà Oberlo evidentemente ti aiuta ad andare direttamente su Amazon senza passare per integrazioni non native allora ragazzi ci sono veramente veramente tante domande che stanno nella chat e faccio fatica veramente a rispondere a tutti prego a tutti quelli che dicono grazie per la risposta ci sono alcune domande in particolare ne ho viste diverse di Fabienne che sono anche molte domande relative al business cioè relative a come orientarmi come fare eccetera allora per tutti questi casi io veramente raccomando il gruppo Shopify Italia il gruppo Facebook perché è un gruppo dove veramente condividere le proprie esperienze con altri merchant quindi lì veramente io vedo ci sono dei post molto molto seguiti e molto molto seguiti molto diciamo validi dei post e la gente dice guarda io ho avuto questo problema voi come l'avete risolto e tanti rispondono e si confrontano quindi Shopify Italia su Facebook il gruppo ecco guarda guarda Fabienne che ci dice non ho mai fatto un'aventura spontanea solo l'acquista a parti conoscenti tra voi ma non preoccupate non preoccuparti perché è proprio questo il punto cioè se effettivamente si deve iniziare si deve partire bisogna confrontarsi capire qual è il proprio target ed è un percorso in evoluzione vai sul gruppo chiedi e vedrai che avrai veramente tanti consigli ecco questa è una domanda per Paolo sempre di Francesco se in Shopify si parla o parlerà di one step check out one step check out è quando non c'è sai che in Shopify abbiamo un check out che è in più click vado una fase alla volta e in alcune realtà storicamente si diceva è più facile se c'è un solo click sì allora non ho visibilità su questa cosa quello che vi posso dire è che check out è il cuore di Shopify quindi c'è forse il team di ingegneri sviluppatori più grande all'interno di Shopify è proprio concentrato sulla parte di check out e stanno tutto il giorno lì a fare i bitesting e prove per cercare di creare quella che è la soluzione migliore quindi se evidentemente non c'è ancora questo one step check out perché ci saranno questi cervelloni canadesi e non che avranno reputato che forse è meglio avere più step in questa fase se poi un giorno lo troverete vorrà dire che magari non cambia di idea però vi assicuro che ci sono alcune delle migliori teste che stanno ragionando sul check out in questo momento al volo Antonello chiede per promuovere per Jacopo per promuovere lo store in uno scenario omni channel c'è qualche app utile? beh qualcuna l'hai mostrato? quella della mia presentazione esatto Antonello riguardati il video oppure riceverai il pdf se sei iscritto su virtual shopify meetup punto splash splash that punto com e come inserire nei codici mio e-commerce gli snippet di evento di google ads per il monitoraggio allora qua credo in realtà dunque innanzitutto qui mi sembra di aver fatto questa cosa in realtà usando semplicemente analytics perché poi google ads si collega con analytics però per misurare gli eventi questo dipende anche dal tema che utilizzi se non ero Jacopo comunque nelle impostazioni di shopify c'è proprio una sezione dove è possibile proprio rincollare credo solamente la stringa la stringa di google analytics una volta fatto quello in automatico e lo stesso vale anche invece per la stringa di facebook in automatico tutto quello che è il settaggio di tracking degli eventi delle vendite eccetera viene tacciato perfettamente su google analytics ma la chiave se non erro è usare su analytics la tracciatura e-commerce avanzata perché quello che si può poi impostare anche in shopify e in parallelo viaggiano permetterà di registrare tutto quello che avviene lato checkout lato eventi lato funneling diciamo di vendita ragazzi vorrei veramente rispondere a tutti l'ultima dice in parte con Emilio l'ho notata sto progettando pantaloni con foto devo andare dalla mia allora me li stampa shopify no shopify credo che non stampi pantaloni Paolo mi confermi che non stampi pantaloni non stampiamo pantaloni però ripeto se volete se Lex li fai far stampare da qualcuno ci sono diverse app cerca sull'app store print on demand stampa stampa su richiesta eccetera e cerca a me viene in mente Printful ma ce ne sono altre e vedi quali sono i prodotti che loro hanno a disposizione che tu puoi personalizzare con le tue foto con le tue stampe che poi collegato a questa app a shopify automatico ogni volta che arriva un ordine quest'ordine viene gestito da Printful da quell'app print on demand scelta da te e viene spedito da loro direttamente dai loro magazzini senza che tu abbia quindi un magazzino a casa chiaro chiaro tu puoi farlo cioè se tu sei o sei un produttore produci tu la tua maglietta e te la fai fare da un fornitore che è la tua stampa in periodo di fiducia o lavori in dropshipping usando tipo Printful sì chiaramente sono due dinamiche diverse ma ugualmente valide va bene Emilio possiamo lasciare il link te lo metto qua in chat della pagina splash eccola che lo stanno chiedendo per registrarsi certo allora la metto subito devo fare io da tramite se siete sul gruppo Facebook non possiamo postare sul gruppo Facebook qui dovete andare a vedere il commento nella all'inizio nel primo commento vi ho messo il link della pagina Facebook di Sintra su quale invece esce il commento facciamo un giro ok va bene l'ho postato sì dovrebbe comparirvi perfetto e a questo punto io lascerei chiudere allora grazie a tutti dell'evento mi ha fatto veramente molto piacere essere qua con voi un bellissimo momento di confronto con domande eccetera ma anche un po' il networking cioè è chiaro che vorremmo mangiarci la pizza insieme adesso e berci una pizza ma non preoccupatevi perché lo faremo non appena sarà possibile e nel frattempo lascerei a Paolo la chiusura dell'intervento sì beh grazie a tutti grazie soprattutto in realtà a Emilio e a Jacopo che insomma hanno condotto e insomma senza dirlo a questo evento non sarebbe stato mai possibile io vi rimando semplicemente a un po' a tutte le risorse che abbiamo menzionato durante questa oretta e mezza passata insieme utilizzate chiaramente il gruppo Facebook Shopify Italia per fare networking dopo questa sessione qualsiasi domanda molti ricomenti che abbiamo trattato qui sono in realtà trattati in comprofondità all'interno del blog di Shopify Italia e nulla cioè vi ringrazio a tutti e vi saluto e buon appetito come next step Jacopo per contattare Sintra per Sia Shopify Plus che applicazioni o lavoro sull'omnicanalità nella presentazione ci sono i dettagli altrimenti potete andare sul sito www.sintraconsulting.it e trovare tutti ho lasciato nella mia presentazione la mia email per chi mi vuole contattare grazie ancora a tutti grazie Paolo e grazie Emilio e come ultima cosa se volete contattare me emiliolodigiani.it iscrivetevi se volete al canale YouTube strategia e commerce dove troverete anche questa registrazione oltre che darò una mano per questo canale che sto lanciando ultimamente c'è il corso gratuito dovete cercare corso Shopify adesso andiamo online su Google lo trovate gratuito per sei mesi se vi iscrivete fino al 30 aprile con tutti i link in giro sia su strategia e commerce che su Shopify stesso e basta e questo è quanto allora un saluto a tutti grazie a tutti e a presto ciao ciao a tutti ciao a tutti